Alla gente piace credere in qualcosa. Ognuno in ciò che vuole. Magie. Queste storie però nascono da un vissuto. Signorina Lamb! L'attendevamo un'ora fa. Scusi? Frank, la signorina Lamb, la nuova custode. Non lo voglio! Non si può rifiutare. Io dovrei andare a scuola. Va allora. E dov'è? Questo è Frank. È stato evacuato da Londra. Signorina Lamb, lo so che è occupata a scrivere le sue storie. Presi accademiche, grazie. Direi che non sono interessanti. Ho scritto quei libri. Credi nel paradiso? Sì. Non devi. Dove sono tutte le persone morte prima dell'arrivo dei cristiani? Dove sono le loro anime? Nella terra dell'estate. E dov'è? È solo un mito. Queste storie però nascono da un vissuto. Frank! È mio padre. Ventonesimo squadrone. Bene, allora. Che stai aspettando? Perché non ha un marito? Perché tu non hai una moglie? Ho avuto qualcuno. Tempo fa. Eccoci qua. Io dico, godiamoci lo spettacolo. È la persona che amava. Tu credi che sia strano? No. C'è Frank. Perché? Il padre è appena arrivato un telegramma. La vita non è mai tenera. L'angoscia è inevitabile. Ma quello che conta è quello che tu ne fai. Povero bambino. Costretto al dolore tutto solo. Non è solo adesso. Nessuno sa come essere un bravo genitore. Però voi due... Signore, che bella coppia che siete.